La squadra perde, non roviniamo la stagione e forse anche il futuro di uno come Bianchi? Allora, cosa bisogna fare in un caso come questo? Entra il Presidente che ha fatto bene a multare il giocatore, in questo caso io non sono tanto d'accordo sulla politica di... perché dopo vorrei dire magari più tardi qualcosa sul Philadelphia, perché ho parlato pochi giorni fa con Chiamparino anche, sulla vicenda a Philadelphia proprio, e quindi bisogna fare in modo che questi due si riappacifichino, che lo facciano ufficialmente, bisogna che il giocatore faccia il giocatore e dica scusi mister, ho sbagliato, le chiedo scusa, io sono a disposizione, lei faccia quello che deve fare, il suo lavoro, e l'allenatore gli deve rispondere, sai, forse siccome sei stanco, forse sarebbe stato meglio se ti avessi chiesto prima quando vuoi stare fuori, e tu avresti capito, forse avresti riposato una giornata, e non nasceva il caso. Certo, ho capito cosa vuoi intendere. In queste cose qui manca la società però, per suggerire queste cose qui, mi dispiace doverlo dire. Mi scusi, però no, io non sono d'accordo. Dico un'altra cosa, questo allenatore, questo allenatore, lavora come tutti gli allenatori, perché quello che abbiamo bruciato, anzi fritto, arrostito sui carboni ardenti l'anno scorso, è primo in classifica con l'Atalanta, mi sembra, questo lo stesso, ma perché? Perché questo allenatore è stato messo in crisi dai suoi dirigenti è stato non ha autorità nei confronti di loro, perché ci sono due modi di condurre, autorevolmente, quindi con autorità o con autorevolezza. L'autorità te la dà la società quando ti assume, l'autorevolezza te la conquisti con i giocatori. Non ha mai avuto il tempo di farlo questo qui. Non sappiamo neanche cosa pensa del gioco che vuol fare. Mister, però dicono non può la società suggerire a un mister quello che deve dire. Togliamo un valore umano al signor Lerda, non mi sembra giusto. Deve essere farina del suo sacco il discorso che Lerda deve fare a Rolando Bianchi. Poi la società l'ha confermato davanti allo spogliatoio, ha detto non mi fate bizzi, tanto non lo cambio. È una conferma virtuale. è virtuale ma è qua. No, perché il direttore sportivo Petracchi facciamo nomi e cognomi l'ha delegittimato 20 volte questo qui dicendo anche lo confermo l'ho confermato però qualcosa bisogna cambiare. Tu non puoi andare a dire una cosa del genere. i giocatori sentono anche loro e quando l'allenatore dice qualcosa Doretta questo qui vado a parlare con Petracchi è questo. Però questo non toglie il valore. Voglio proprio finire il discorso. Io sono stato direttore solo 3-4 anni fa del Novara. Certo. Del Novara. Prima di non avevo fiducia in quell'allenatore. Forse potete sapere chi è uno Juventino. Ma lo sapevamo ma non avevo fiducia per altre ragioni. Bravo ragazzo ma non è il suo mestiere far l'allenatore. La squadra era molto buona poteva vincere il campionato di Cipo e l'ha vinto adesso ma dentro lì ci sono ancora giocatori che avevo preso io a suo tempo e però io sono andato nello spogliatoio all'inizio della stagione non venite a parlare con me di questioni tecniche parlate col vostro allenatore nonostante non avessi e non gliel'ho mai fatta mancare ho sempre rimandato al mittente i giocatori quando venivano a fare delle richieste mi sono sempre interessato io soltanto per i ritardi nei pagamenti che ci sono sempre nelle società e basta e basta questo è il lavoro che deve fare questo signore non cercare di far giocare i giocatori che ha acquistato lui a tutti i costi diciamo chiaramente qui deve intervenire Cairo